cari amici all'ascolto cari amici di rvs www revolution webstation.com anche i nostri immancabili social facebook instagram e twitter dove andare a riascoltare tutte le nostre interviste anche tanti like e tanti cuoricini mi raccomando tanti canali a vostra disposizione per riascoltare il tutto anche il nostro sito internet e anche il nostro canale youtube e spreaker io ringrazio sempre i nostri ospiti gentilmente che vengono qui a raccontare la loro storia la loro biografia la loro professione quindi tutto quello che loro ci dicono lo possiamo poi ritrovare il tutto all'interno anche di nostri canali e tutto quello che ci dicono lo dobbiamo prendere per buono perché vengono detti dai nostri professionisti io ringrazio per appunto la nostra Sara domanin mental coach per essere qui in nostra compagnia ciao Sara ciao a tutti saluto gli ascoltatori di rvs ovviamente della redazione vi ringrazio per il piacevolissimo invito grazie grazie a te cara Sara per averci dedicato un pochettino del tuo tempo e averlo messo a disposizione mia e anche dei nostri amici all'ascolto veramente un grazie infinito perché andremo con te a parlare di una professione molto molto importante molto affascinante perché poi è anche una bella professione molto molto gratificante poi a mio avviso perché permette appunto di aiutare le persone ovviamente diamo sempre la differenziazione con lo psicologo è perché non c'entra nulla o perlomeno possono andare un pochettino a braccetto ma sono due categorie professionali diverse però ecco la nostra Sara riesce a far tirare fuori quel 110 per cento in più negli atleti che siano appunto nell'ambito sportivo ma anche nei professionisti manager e quant'altro cara Sara ecco però noi vogliamo sapere anche un pochettino della tua storia la biografia un pochino di Sara Domanin quando nasce la tua passione e ovviamente anche il percorso di studi che hai affrontato per diventare una mental coach professionista vai Sara sì allora io c'è da fare un piccolo appunto io sono un'ex giocatrice di pallacanestro ho giocato per quasi 30 anni a fine carriera ovviamente avevo tantissimo amore per questo sport e ho deciso di dare continuità quindi trasmettendo la mia passione e le mie conoscenze alle giovani leve e quindi sono diventata allenatrice poco prima del lockdown sono stata promossa come head coach perché sai una cosa forse simpatica è che l'allenatore di pallacanestro si chiama coach che non ha nulla a che vedere con il coach mental coach sì quindi insomma sono diventata l'allenatrice della serie B femminile della pallacanestro Antoniana Pescara e poi c'è stato il lockdown una piccola parentesi che ho sempre fatto dei lavori d'ufficio che si occupavano di gestione di supporto del cliente quindi avevo soddisfazione nell'aiutare gli altri è importante dire questo perché diciamo lo stesso lavoro viene fatto in un altro modo poi c'è stato il lockdown molte persone si sono abbattute questa situazione di stop certo io come sempre ferma non riesco a stare quindi dovuto trasformare il limite quindi questo ostacolo in un'opportunità per crescere quindi ho iniziato a studiare meglio il mio proprio il mio sport la metodologia del basket e tornavano sempre questi corsi di mental coaching con degli esperti quindi che cosa ho deciso di fare ho deciso di aderire a un corso del professor Roberto Ardizi di Pescara e dopo un percorso di studio ho conseguito il diploma nazionale abilitante proprio alla professione di mental coaching io in particolare mi sposto più che sul business coaching sul sport e life perfetto perfetto quindi hai coniugato sia lo sport che il life diciamo all'interno della tua professione quindi aiuti tanti atleti appunto a tirar fuori diciamo quella percentuale in più inespressa perché poi ce l'hanno dentro di loro però magari ecco serve un qualcuno una figura professionale più che altro per farglielo tirare fuori perché poi va bene il lavoro atletico è importantissimo anche per le prestazioni sul campo però poi la testa no la mente è anche un'altra componente molto molto importante giusto Sara? Sì assolutamente infatti spesso nelle sessioni di coaching non si può pensare che ci si limita proprio allo sport in sé molte volte si toccano dei campi della vita privata che appunto interferiscono con la serenità del giocatore il mental coach è proprio un allenatore della mente quindi aiuta l'atleta ma anche la persona ad allenare la mente indirizzarla verso la giusta direzione quindi sicuramente quando si parla di sport coaching in realtà noi parliamo anche della vita privata perché tante volte l'atleta magari ha litigato a casa ha una motivazione esprinseca perché magari non è dettata da sé ma è dettata da qualcuno voler far vedere agli altri che sa fare vuole dimostrare e quindi escono fuori tante piccole problematiche che vanno diciamo indirizzate. Perfetto ecco Sara chi è l'atleta invece resiliente? Io credo che il basket sia lo sport perfetto per spiegare la resilienza cioè nel basket non ci sono mai delle azioni completamente uguali quindi bisogna reagire in brevissimo tempo a delle situazioni di difficoltà come abbiamo detto sempre diverse cercando la soluzione giusta senza perdere la testa quindi l'atleta resiliente è sicuramente un atleta consapevole che si conosce ed è motivato a raggiungere degli obiettivi importanti mettendo da parte come abbiamo detto le interferenze esterne. Sostiene dei cambiamenti l'atleta resiliente mantenendo l'autocontrollo perché come abbiamo detto non deve mai perdere la testa. È un atleta che alla botta trova sempre il modo per rialzarsi e trova sempre delle soluzioni differenti come abbiamo detto nel basket le situazioni di gioco sono sempre non esistono situazioni uguali quindi di fronte a una difficoltà deve trovare nel minor tempo possibile la soluzione giusta. Quindi l'atleta resiliente è anche un atleta auto efficace la resilienza è collegata all'auto efficacia perché è una è capace di rendere efficace le proprie potenzialità abilità capacità quindi le organizza le gestisce e le sfrutta al meglio per appunto raggiungere i propri obiettivi. Perfetto perfetto sei stata chiarissima cara Sara prima abbiamo anche accennato un pochino alla alla motivazione intrinseca ecco io per l'appunto vorrei chiederti la motivazione intrinseca nelle atlete com'è come viene tra virgolette passando il termine curata ecco da parte tua con la tua figura professionale. Allora in realtà non è il mental coach che motiva la motivazione proprio perché intrinseca ho anche detta 3.0 è il motivo per cui compiamo degli azioni ci indirizziamo verso una determinata direzione e quindi il perché che viene da dentro come dicevamo prima non è intrinseca quindi dettata da un genitore che vuole che il figlio riesca una dimostrazione a qualcuno fuori è una motivazione nostra dentro che ci dà proprio la forza di respingere tutti gli ostacoli che incontriamo quindi come vedi parliamo sempre di cose strettamente collegate resilienza autoefficacia motivazione quindi è quel comportamento dell'individuo verso uno scopo ben preciso ben preciso nella femminile io ho io sono ovviamente ho giocato tanti anni e ora alleno e sono molto nel settore femminile e devo dire che essendo considerato femminile direttantismo a qualsiasi categoria ovviamente quello è proprio l'emblema della motivazione intrinseca cioè nonostante non abbia tutele nonostante il mio ruolo non sia riconosciuto non ho dei compensi adeguati non ho misure previdenziali vado avanti quella è motivazione solitamente le ragazze verso i vent'anni diciamo con una motivazione un po' debole tendono a finire proprio il loro percorso sportivo e magari si dedicano allo studio a quello a quell'altro invece le atlete con una forte motivazione vanno avanti nonostante queste ammetto grandissime difficoltà perché come fare sport per vent'anni 30 anni come me ed essere stati sai come a dormire io dico sempre come se fossi stata 30 anni in un letto senza aver prodotto nulla certo lì c'è una passione infinita la voglia di superare i propri limiti perfetto perfetto sarà ecco tu ovviamente sei una professionista accreditata quindi una mental coach accreditata quindi ecco il coaching che è la tua professione la tua materia cos'è e come lo applica appunto nel tuo ambito lo applicate ecco in ugual modo tutti i professionisti che siete oppure ecco ognuno ha la sua metodologia da applicare allora ci sono degli strumenti ben precisi ovviamente ammetto che non è facilissimo essere sia trainer o diciamo allenatore di pallacanestro sia mental coach per variati motivi un motivo è per esempio che l'allenatore deve vincere a me sono molto sincera non interessa vincere a me interessa che le ragazze abbiano dei risultati che non è la partita i punti o addirittura vincere il campionato è per me la crescita della singola atleta quindi devo dare molta attenzione alle mie atlete la mia vittoria è diciamo se loro io vinco se vincono loro perché io vinco come persona come allenatrice vedendo loro vincere come persone quindi quello che posso fare proprio a livello pratico è intanto lo strumento base del coach che è la domanda non interpreto non giudico non creo traintendimenti conosco le mie atlete in questo modo si collabora si coopera e diciamo che il loro risultato individuale crea cioè il loro benessere individuale crea anche un contesto collettivo più sano che permette di avere delle prestazioni di squadra migliori quindi cerco più che altro di far capire loro qual è la loro motivazione di farle focalizzare sul qui e ora facendo spazzando via quelle ansie d'estate da interferenze esterne dalla paura di fallire ma dico anche dalla paura di vincere perché non tutti sanno vincere certo è vero e usando soprattutto le emozioni che poi sono il carburante della vita le emozioni negative positive certo fa differenza esatto esatto quindi insomma tutto questo serve a migliorare in realtà la qualità della vita cioè attraverso lo sport loro migliorano proprio la qualità della loro vita e devo dire che il primo percorso di mental coaching lo facciamo noi coach perché c'è un percorso di auto coaching in cui appunto tu conosci te stesso per capirti poi anche in relazione con gli altri e una cosa che mi appassiona molto e che io consiglio davvero a tutti come dicevi prima quando poi ci sono dei problemi che vanno al di là quindi dove è utilizzata la figura dello psicologo allora lì il mental coach si deve fermare perché non è più sua competenza perfetto perfetto cara Sara grazie veramente del tuo contributo sei stata molto molto preziosa e appunto ti ringrazio per essere stato qui su rvs prima di salutarti e ringraziarti però Sara vado a dare i tuoi contatti contatti di una professionista seria ed esperta nel suo lavoro cari amici all'ascolto prendete nota potete contattare la nostra Sara al 348 77 88 993 potete anche curiosare all'interno dei suoi canali social facebook Sara domanin mental coach e anche l'instagram Sara domanin coaching quindi tanti like e tanti cuori all'interno grazie Sara per essere stata qui con noi grazie a voi di cuore grazie grazie a te in bocca al lupo per tutto Sara viva il lupo ciao 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 amici all'ascolto grazie particolare anche a voi mi raccomando state sempre in nostra compagnia ciao grazie a te in bocca al lupo per tutto